Siamo appena arrivati, raga c'è il fiatano di giuro allo stadio, 0-0, partita un po' noiosa però il risultato giusto, l'arbitro raga non parliamone, non ha fiscato almeno mille dei falli che aveva fatto il Venezia sui giocatori del Brescia, bisogna anche da centrocampista difensivo raga, è un buonissimo pezzo che al Brescia raga serve, molto molto bravo oggi raga, Moncini un po' di meno però va bene ci sta la stessa prestazione, Borrelli senza il Brescia, Borrelli raga, mamma mia Borrelli raga, MVP della partita, difesa molto molto bene anche con Papetti e altri giocatori, raga aspettiamo che arrivi il Brescia e cerchiamo di fare una foto con lui dai. Grande, grazie ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, raga, raga mi ha filmato la maglietta, mi ha detto raga tu mi segui su YouTube, raga, raga non ci credo. Sto faccio solo la foto, dai, fa una foto con un bianco, non è bianco, non è bianco, non è bianco, dai tu, dovevi fare la foto? fa la foto che ti mandare via